Il terzo dei primi italiani, noi non siamo, io vorrei che lo dicesse l'autore che sta scendendo, Mario Balsamo. Guido viene o viene con noi? Non si sposterà mai, va bene. Allora voglio sentire dalla viva voce, ecco Guido. Allora voglio sentire dalla viva voce dell'autore il titolo del suo film, Noi non siamo come James Bond. Guido non è d'accordo, non mi è mai d'accordo. No, no, sono d'accordo e l'avrei fatto un po' più corto. Il titolo o il film? Il titolo? Noi siamo James Bond. Noi non siamo. Noi James Bond. James Bond. Noi James. Allora, io vi lascio perché poi la proiezione sarà seguita da quello che io chiamo dibattito, mentre si dice in gergo Q&A. Q&A. Ma io non le imparerò mai. Allora, io però prima di lasciarvi al film non posso non dire che in sala abbiamo Daniela Bianchi. No, no. Grande Daniela Bianchi, la protagonista del mio mondo preferito, prima di stage wall, dalla Russia con amore. Grazie, grazie Daniela di essere qua con noi. Grazie. E adesso vi lasciamo alla proiezione del film, si spegnano le luci e cominci. Noi non siamo come James Bond. Anche tu sei come James Bond. Grazie. 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 Grazie.